Buongiorno a tutti 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 Siimati, lasciami un bel palletino. Non penso non penso che hanno av comúnmente che il progettino. No, no. Eeeh, che stavano! Cosa? 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 Jtra, chased. Cosa? Cosa? Sì, sono stato per la scuola, è stato per la scuola. Un'altra parte. Un'altra parte. Un'altra parte. E' un'altra parte. E' un'altra parte. E' un'altra parte. No, 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 no! Lire e snabbou! Unico! Grazie a te i zruWhy! Unico! 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 ma Grazie a Sì, sì, sì. Chi vuoi? Chi vuoi? Vedi la se le vedi da casa! Vedi la se le vedi da casa! Si! Vedi la scuola! Ui, sei che vuoi chiusi. Chi vuoi che vuoi? Ci vuoi! Sono quasi? No, non ti vuoi! Tu vuoi? Tu vuoi? Tu puoi? Tu vuoi? Cosa che vuoi? Tu vuoi? Tu vuoi? Tu vuoi? Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.